I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore, la sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno arrestato l'amministratore unico di una società che gestisce numerosi supermercati nell'agro nocerino sarnese. Stando alle indagini coordinate da Angelo Rubano, sostituto procuratore presso la Procura di Nocera Inferiore, l'uomo, mediante vessazioni, minacce di ritorsione e di licenziamento, aveva creato un clima di intimidazione e di costrizione in danno dei propri dipendenti. In particolare, molteplici dipendenti venivano costretti ad accettare condizioni di lavoro illegittime rispetto al proprio contratto di lavoro, una retribuzione inferiore rispetto al lavoro prestato, a rinunciare a permessi e riposi, nonché a sottoscrivere quietanze liberatorie con le quali dichiaravano di rinunciare ai crediti di lavoro maturati e non corrisposti. Il clima di prevaricazione in danno dei dipendenti creato dall'uomo consisteva anche nel costringerli alla vendita al pubblico di pietanze da asporto preparate con alimenti scaduti e non idonei al consumo, quali carne annerita e maleodorante, poi corretta con l'aggiunta di additivi, pasta contenente blatte, nonché frutta ed ortaggi marci. Tali condotte hanno consentito all'imprenditore di conseguire il profitto derivante dalle estorsioni compiute per un ammontare complessivo pari ad 1.704.000 euro.